Sequestro preventivo da parte della Guardia di Finanza nei confronti del direttore dei servizi generali e amministrativi dell'Istituto Tecnico Pacinotti di Scafati. Le fiamme gialle hanno accertato che l'uomo era riuscito ad appropriarsi di oltre 13 mila euro grazie ad alcuni artifici contabili. Dovendo restituire al Ministero del Tesoro alcune somme per progetti scolastici non rendicontati, il dirigente aveva falsamente predisposto un mandato di pagamento formalmente intestato al di Castero, ma recante il codice IBAN dell'associazione dilettantistica della quale era presidente. A ciò si è aggiunta la scoperta di una serie di falsi mandati di pagamento che attestavano la liquidazione di pagamenti ad alcuni fornitori in realtà mai avvenuti. Somme che sono state invece accreditate sul conto corrente della donna a lui legata affettivamente. Entrambi sono stati denunciati per truffa ai danni dello Stato. Il dirigente inoltre è stato sospeso dai pubblici uffici per quattro mesi.